Piacere come sempre ritrovarvi, se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate il vostro preziosissimo like, grazie. Allora, il mondo non è finito dopo Inter-Juventus 1-0, è chiaro, si è complicata maledettamente la corsa a scudetto, però tocca reagire e bisogna farlo nel migliore dei modi in occasione dell'appuntamento di lunedì sera in casa contro l'Udinese, fischio di inizio alle 20.45. Questa è una gara che non puoi mai sottovalutare nella vita, a maggior ragione dopo l'ultima tra le muramiche, quella con l'Empoli, dove è stato certificato che se non ti presenti con la giusta mentalità, settato sulle giuste frequenze mentali, l'imponderabile è dietro l'angolo e quindi una missione che avresti dovuto centrare più o meno agevolmente, non la centri e ti proietta nel peggior modo possibile alla sfida delle sfide, ovvero quella contro l'Inter. Amarcord, bisogna andare oltre e bisogna farlo lavorando duramente alla continassa, cosa che mi risulta che allenatore, staff e calciatori stiano facendo in maniera egregia dal giorno 1, dal pre-season. Perché ora può piacere, non può piacere Allegri, possono piacere, non possono piacere determinati calciatori, ma sul fatto che il gruppo sia sempre stato molto unito in questa annata credo che nessuno possa dire alcunché. E i punti lo dimostrano. Ma la parola crisi, che personalmente detesto, è davvero dietro l'angolo, perché se la Juventus non dovesse battere l'Udinese si aprirebbe una crisi, non dobbiamo nasconderci. E quindi, siccome questa è una parola che detestiamo tutti, per non nominarla bisogna fare quello che devi fare, battere l'Udinese. Ora, io penso che difficilmente la Juventus proporrà qualcosa di diverso in termini di struttura tattica, vuoi perché la Juve è in pienissima linea con gli obiettivi stilati dalla società a inizio stagione, e vuoi perché Max Allegri ha più riprese, si è detto soddisfatto di come i calciatori si stiano esprimendo nel corso di questi mesi. Però, la qualità è qualità, e la Juve è riuscita a lanciare con grande merito un gioiellino, che era Nildiz, che rappresenta già il presente, ma dovrà rappresentare principalmente il futuro. Ora, anche qui ho letto dei commenti ingenerosi sulla sua performance contro l'Inter, che è stata complicata per lui, per Blauic. Sì, ok, l'errore sullo 0-0 da parte del serbo, però gli attaccanti della Juventus non sono mai stati supportati a dovere, anche in concomitanza con l'ingresso di chiesa. E Nildiz ha alternato cose buone, altre meno pregevoli, ma è tutta esperienza, e sfido chiunque a giganteggiare a 18 anni a San Siro. Sì, lo puoi fare, se sei forte come lo è Kenan, però, in termini complessivi, non mi sembra che sia stata, eufemismo, una bella Juve a Milano, e che, sostanzialmente, si siano salvati in tre. Schesny, Bremer e McKennie. Andiamo oltre. A me risulta che alla continassa, comunque, qualche esperimento, chiamiamolo così, estemporaneo a livello tattico, venga fatto. Entro un po' più nello specifico. Il Diz più due attaccanti. Premessa, secondo me, difficilmente vedremo qualcosa di simile dall'inizio, in una gara, da qui al termine della stagione. Ma, durante le prossime settimane, non mi stupirebbe se Allegri dovesse iniziare a insistere su qualcosa di simile, o per recuperare una partita, o per consolidarla, o per dare nuovi stimoli all'interno di una stessa gara. Perché, Kenan, comunque, è un giocatore che lega molto, lo abbiamo detto più volte. Chiesa strappa, Kenan lega. E può farlo tranquillamente, affiancato, magari, da un altro profilo, dietro una prima punta. Perché il Diz, nei due dietro, una punta centrale, l'ho già fatto ampiamente. In primavera con la Juve, ancora prima mi dicevano col Bayern, in nazionale, con la Next Gen. Lui ama molto giocare sull'autobancino per poi accentrarsi. È un giocatore che non ti fa mai capire se va di sinistro, se va di destra, a velocità. È molto bravo nei cambi di direzione. Espezione, elettrico, no? Quando ha la palla tra i piedi, è sempre la sensazione che possa creare qualcosa di pericoloso. Però è uno che ti può anche creare degli spazi. Perché è molto bravo, è brevilineo, è tecnicamente sontuoso. E quindi, con il Diz più due attaccanti, potresti avere una produzione offensiva differente. Qui l'obiezione che mi si può fare è, che tra l'altro capisco perfettamente, e comprendere eventualmente se, alle volte, uno dovesse optare per il Diz più Chiesa e Vlaovic, se magari il Diz e Chiesa non rischiano di pestarsi un pochettino i piedi. E su questo bisognerebbe lavorare molto. Perché non dico che occupino gli stessi spazi, ma andiamo poco lontani. Chiesa lo conosciamo alla perfezione. Lui ama partire dall'autobancino. Il Diz, magari un po' più centrale e, alle volte, a tempi migliori, quando si deve abbassare per favorire il flusso della manovra, però siamo in quelle zone del campo. In generale, comunque, credo che sia giusto sperimentare la continassa, soprattutto per la prossima stagione. Lo ribadisco, soprattutto per la prossima stagione, a prescindere da chi allenerà la Juventus. Perché il Diz sa fare tante cose bene, e poi abbraccia un concetto oggettivo per tutti. Qualità. Ha grande qualità, e i giocatori di qualità non sono mai un problema. I giocatori di qualità bisogna assemblarli. I giocatori di qualità bisogna metterli tutti in campo. Quelli di maggiore, ovviamente, qualità. Quelli che ti possono far vincere le partite, e in generale creare uno sviluppo. Quindi, sono felice di sapere che alla continassa, comunque, si stia cercando di andare oltre di pensiero, sebbene non si possa sottovalutare quanto proposto finora, e in generale quali siano gli equilibri. Perché se un impianto ti garantisce tot punti, e l'allenatore è molto pragmatico, come Max Allegri, non è che io vivo su un mondo parallelo, e posso pretendere che la Juventus cambi pelle, e magari ottenendo meno punti. Ma, nelle camere segrete, presso le stanze segrete, presso il laboratorio della continassa, è fondamentale che comunque i calciatori possano ampliare i loro orizzonti per farsi trovare eventualmente pronti nella prossima andata calcistica a fare cose differenti. E soprattutto, quando hai 18 anni, devi saper fare più cose. Non puoi fossilizzarti unicamente a fare, per esempio, la seconda punta atipica, come la sta facendo ora il Diz. Perché magari cambia allenatore, magari lo stesso allenatore che c'è attualmente decide di passare al tridente, e ti trovi un po' spiazzato ad alto livello. Quindi, vediamo, sono curioso di osservare, nel corso delle prossime puntate, se Allegri a gara in corso deciderà di inserire il Diz in una trama un po' più ampia, con altri due attaccanti, paradossalmente lo vedrei meglio con Milik e Vlaovic, anziché con Vlaovic e Chiesa, proprio perché ho quel dubbio lì, ho quel dubbietto lì su quella porzione di campo ricoperta da Chiesa e da il Diz e i due assieme non so come potrebbe andare. Però, io vi invito, ovviamente dobbiamo considerare che tipo di partita sia stata con l'inferiorità numerica e tutti i problemi che ben conosciamo, a rivisitare, a ripescare, a riosservare un pochettino la sfida con l'Empoli, dove il Diz ha fatto sostanzialmente la mezzala, che per me non è il suo ruolo, perché è un giocatore molto più offensivo e deve far gol e assis, non iniziamo a farci un'estranea idea, però quella fase di sacrificio fa capire perfettamente come il Turco sappia sacrificarsi e lo sappia fare in funzione della coralità, mettere davanti il noi all'io e questa è una grande mentalità e li farà fare una grande carriera.